Io mi chiamo Luigi, Luigi Camerlingo e sono di Matera, una città del sud dell'Italia e sono un ingegnere, un ingegnere in pensione ormai da qualche anno e ho trovato in Incrucis qualcosa che mi ha cambiato letteralmente la vita. Conoscendo Jonathan Diaz, conoscendo Antonio Martinez, conoscendo un po' l'azienda, conoscendo anche che cosa stavano facendo, ho detto a mia moglie, ma perché non dedichiamo un po' di tempo a questa bellissima attività per migliorare anche il nostro tenore di vita, visto che purtroppo con la pensione non puoi fare tutto, ovviamente. Ho detto, ma questa è un'opportunità, siamo tutti in casa, adesso possiamo parlare con le persone dovunque. Abbiamo iniziato con Zoom a contattare le persone tutti i giorni e di lì la squadra è ingrandita, invece di avere paura abbiamo parlato con le persone di futuro. Finirà prima o poi questa pandemia e quindi quando finirà avremo la possibilità di viaggiare. Così è stato. L'anno scorso ho avuto il piacere di fare due viaggi con tutta la famiglia, uno a Parigi e uno a Sorrento, meravigliosa Sorrento. Quest'anno ho fatto tre crociere, pensate, addirittura due viaggi, uno meraviglioso in Calabria e un altro in un posto stupendo che si chiama Casa del Campo a Porta della Repubblica Dominicana, a Santo Domingo. In Cruises ti permette di migliorare il tuo stile di vita. È successo a me, è successo a tanti amici perché non può succedere anche a te. Devi soltanto volerlo, devi soltanto decidere di cambiare la tua vita. Se continui a fare sempre le stesse cose, certamente avrai sempre gli stessi risultati. Se invece decidi di cambiare, di aggiungere qualcosa di nuovo nella tua vita, vedrai che con In Cruises potrai migliorare. Nella peggiore delle ipotesi, io vi dico sempre, viaggerai di più e spenderai di meno. Quindi questo è il peggio che ti può capitare. Ma soprattutto mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone straordinarie. Chiama la persona che ti ha invitato, che ti ha mandato questo video e chiedigli, fai tutte le domande. Ma una cosa, devi essere curioso, perché se non sei curioso non riuscirai mai a comprendere la bellezza di questa meravigliosa opportunità. Ciao.